Ciao a tutti, ciao, grazie per aver scelto questo video bentrovati o ben ritornati sul mio canale Fairy ASMR per chi non mi conoscesse io sono Petrica quello che state per vedere è un video ASMR di puro whispering quindi un video in cui parlerò con questo tono di voce sussurrato consiglio di tossare le cuffie pure agli auricolari per ascoltarmi meglio accompagnerò però il mio whispering con un trigger che ultimamente ho visto qualche volta in giro per il web tra i video ASMR che mi sta piacendo molto ed è quello dei miei spiriti sul microfono li tirerò via uno ad uno mentre risponderò alle domande di un videotag sono stata taggata da Black Moon ASMR che ringrazio e saluto e il videotag è stato, se non erro, inventato da Isima 91 sarà un questionario quindi appunto risponderò a queste domande togliendo ogni volta per ogni risposta data uno spiglio dal microfono taggo a mia volta 6 canali che spero vogliano rispondere alle stesse domande perché mi piace ascoltare la loro voce e farai un loro video di whispering questi 6 canali sono mi raccomando, se non siete ancora iscritti, fatelo attivando la campanellina ecco, di nuovo, naturalmente se il contenuto di questo tag non vi interessa lasciatevi semplicemente gullare dalla mia voce e attrarlo da questo viso che è veramente molto molto carino la prima domanda del quarantena tagga chiede da quanti giorni sei in casa? io sono in casa dall'inizio della quarantena e siamo nella quarta settimana quindi non so esattamente quanti giorni siano trascorsi però dal primo giorno della quarantena sono in casa seconda domanda come stai passando queste giornate? penso si intenda che cosa io stia facendo durante le giornate della quarantena bene, ho documentato diversi momenti della mia quarantena nei vlog che stanno uscendo prima sono usciti giornalmente, poi settimanalmente non so adesso se ne uscirò un altro questa settimana o se lo rimanderò alla settimana successiva comunque non sono da sola in casa quindi sto trascorrendo il mio tempo in compagnia e per quanto riguarda i miei progetti personali mi sto dedicando moltissimo allo sviluppo di un lavoro mettiamola così che mi sta portando via parecchio tempo e molto impegno però è qualcosa che mi gratifica quindi sono molto contenta di dedicarmi a questo progetto in più sto facendo video su youtube come avrete potuto notare la pubblicazione è molto più frequente del solito e mangio, mangio molto spesso ho anche iniziato un po' di attività fisica faccio qualche workout dovete sapere che io sono praticamente l'anti sport per eccellenza ho fatto nella mia vita diversi sport ho praticato diversi sport per poco tempo perché sono veramente uno straccetto e ho una salute abbastanza cagionevole però penso che l'impossibilità anche di passeggiare mi danneggi e quindi ho deciso di fare un po' di esercizio fisico con alcuni tutorial che sono seguenti su youtube poi che altro? niente, si chiacchiera film? pochi? direi che ho risposto possiamo togliere il secondo spill eccolo qua tra l'altro subito dopo aver registrato questo video voglio andare a fare un manicure ok, terza domanda con chi parli più spesso su whatsapp? dunque su whatsapp parlo più spesso con la mia famiglia diciamo che sono le persone che sento più frequentemente e quindi togliamo un altro spill poi quarta domanda serie tv da consigliare? allora io non mi sto dedicando alla visione di nessuna serie tv però ho scoperto da tre giorni due giorni un programma molto molto carino che si chiama 100 umani e te lo consiglio poi se proprio avete del tempo da spendere invece non ne abbiate per guardare delle serie tv vi posso consigliare le mie preferite di sempre che sono per esempio Breaking Bad You io ho un'altra serie molto 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 carina poi un'altra che ho visto recentemente che mi è piaciuta è stata Modern Love anche Baby è stata carina secondo me e no mi vengono in mente solo queste al momento però ce ne sono veramente tante di serie tv che mi piacciono sono abbastanza appassionata di serie tv e il fatto che non le stiamo vedendo in questo momento è semplicemente dovuto al mio impiegare per spiegare il tempo in tutt' altre cose un po' più concrete diciamo ecco qua penso di aver risposto quindi togliamolo tra lo spiglio ok poi la prossima domanda è dai tre consigli su come passare il tempo in casa a chi ti segue allora se non dovete lavorare io direi di svegliarvi con comodo e di iniziare la giornata facendo un po' di movimento di come sto facendo io più o meno seguendo qualche video magari ti devi abballare non negatevi le cose che ti piacciono perché penso che questo possa solo peggiorare il vostro umore che potrebbe non essere magari alle stelle durante la quarantena ecco ecco l'altro spillo la prossima domanda mi chiede la tua crush di questa quarantena io non lo so ma voi avete l'umore giusto per avere una crush in questa quarantena? io no ok poi chi sarà la prima persona che vedrai appena finirà tutto? togliamo lo spillo allora credo che beh sicuramente vedrò i miei genitori voglio riabbracciarli però anche tutte le altre persone a me care le voglio vedere assolutamente appena finirà la quarantena e poi ho molte cose pratiche da spiegare alla fine di questa quarantena quindi ci saranno anche degli incontri con persone per risolvere alcune problematiche ecco prossima domanda quale sarà la prima cosa che farai? ovviamente uscire di casa e fare una bellissima passeggiata al sole sperando che quando finirà tutto sia una giornata di sole ecco 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 e la seconda la seconda credo sarà a andare a vedere la possibile nuova casa in cui forse mi trasferirò poi prossima domanda quale sarà il primo posto in cui andrai desidero tanto andare in un centro commerciale non so perché ma anche al mare quindi il primo posto più lontano da casa in cui andrò sarà un centro commerciale oppure il mare e anche questo è fatto prossima domanda chiede il primo negozio in cui metterai piede oh questo mi mette in crisi ma non so sarà sicuramente un supermercato perché avrò necessità di comprare delle cose e quindi probabilmente quello però mi piacerebbe molto anche andare da Sephora insomma nei negozi più così che vengono articoli un po' più frivoli tipo make up e sì immagino questo non ho un particolare bisogno di andare in qualche negozio ho voglia di andare in un centro commerciale perché altro per vedere gente perché è un luogo in questo momento vietato non lo so anche il cinema per esempio mi attira molto e vorrei tornarci quanto prima con chi andrai a cena fuori la prima volta non lo so non ne ho idea qualcuno che mi invita a cena fuori non vado spesso a cena fuori non vado più spesso a cena fuori quindi boh non ne ho idea però quando finirà la quarantena forse sarà il periodo del mio compleanno quindi è probabile che ci vada con tutti gli amici chissà togliamo lo spillo verde altra domanda il primo viaggio che vorrai fare allora il primo viaggio che vorrei fare è ho un'altra crociera oppure una gita fuori porta di un paio di giorni in un posto rilassante con una spa magari un bell'albergo e comunque sarà sicuramente un viaggio molto 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 rilassante perché poi ne ho un altro programma che è un po' più movimentato però è un programma molto a lungo termine adesso non è possibile ecco siamo alla terza ultima domanda che chiede il primo drink che berrai non bevo solitamente quindi forse per festeggiare festeggerò con il fragolino ma non essendo una bevitrice non lo so non ho stato questa esigenza di bere quindi togliamo questo e restano solo due tutto molto allora la penultima è cosa hai imparato in questi giorni allora ho imparato quanto sia importante avere una rete di affetti una rete di persone vicine su cui contare è una cosa che già sapevo ma che in questo momento è molto molto tangibile per me e quindi questo poi ho imparato l'importanza di avere per me qualcuno accanto che mi motivi a fare delle cose perché probabilmente sono una persona che tende a perdere la motivazione in alcuni progetti anche semplici di vita se non vengo spronata nel modo giusto e ho imparato che devo prendermi cura di me e fare i conti con la mia tendenza a deprimermi se non vengo stimolata da qualcuno all'esterno ci lavorerò e ho riflettuto moltissimo su su quanto sia bello sentire calore umano e su quanto alcuni eventi siano molto più grandi di noi e quindi siano in grado di scombinare i nostri piani e l'ultima domanda una domanda bonus che dice manda un messaggio positivo non è una domanda bene il mio messaggio positivo è fatevi forza stringete i denti utilizzate questo tempo per guardarvi dentro se non siete in compagnia di una persona cara se siete in compagnia di una persona cara utilizzate questo tempo per capirla al meglio per prendervi cura anche di lei comprendere quali sono i suoi bisogni e migliorare la comunicazione tra voi lasciatevi anche un po' di tempo per essere spensierati e andrà tutto molto meglio io vorrei concludere questo video con una poesia molto famosa che sicuramente parecchi di voi conosceranno e mi sembra molto adatta molto 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 adatta a questo che stiamo vivendo ve lo leggo quando la tempesta sarà finita probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e uscirne vivo anzi non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero ma su un punto non c'è dubbio ed è che tu uscito da quel vento non sarai lo stesso che vi è entrato io vi mando un bacino fatoso e se questo video vi è piaciuto ricordatevi ricordati di lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video ciao adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte 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 Grazie.